Sì, è colpa delle mafie, da camorra, di Casavonica, ma io li ho catturati, i mafiosi, i camorristi, eccoli qua. 600 uomini per mettere 8 sigilli, è certo, sono loro, sono loro, onestà, onestà, ma vi siete rincoglioniti veramente tutti, guardate, io adesso questi li imbecco, li appendo a coda in aria, ma cavolo, scappa, scappa, non scappa, Capitano, assassini, vieni qua, che io ti metto a 41 bis, hai capito che ti metto tutti a te a 41 bis, e fanno pure la gara, chi si fa vedere di più, è certo, è certo. Signori, alzare il popolo contro le mafie serve a distrarre questo stesso popolo dalla lotta di classe, ma come fate a essere così fessi da non capirlo? Il problema sono questi quattro straccioni di mafiosi, camorristi e quant'altro, al servizio del grande capitale, eh? Sono questi i responsabili, questi tre mafiosetti qua? Ho baciato i mafiosi, eh? Salutiamo, baciamo le mani.